I bambini, i ragazzi e i ragazzi da qui avremo molto da imparare. Per i diritti e l'accoglienza la Toscana vuole essere in prima fila. Ma lo Iuscole è il minimo sindacale, è stato detto, in conferenza non basta. Assolutamente, io sono convinto dello Ius Soli, ma visto che sullo Iuscole noi riusciamo a trovare una convergenza e in questo momento ci fa vedere che ci sono i numeri in Parlamento, poniamoci pragmaticamente il tema di attuarlo attraverso quello che può essere un lavoro in Parlamento.